Siamo oggi al centro commerciale Carosello di Carugato in provincia di Milano per presentare i nostri corsi di estetista. Adesso stanno facendo una dimostrazione sul massaggio viso e nel trucco. Vi avvicino così potete vedere meglio le tecniche del massaggio per il viso fatta dalla nostra docente Moira Ferreri e dalle allievi che stanno facendo il secondo anno della qualifica professionale estetista. Questa è molto difficile. Appoggiare le mani e altre dita sotto il mento. Con la chiusura. Strisciare fino a dietro l'orecchio con il mento. Sali. Stiramento fino a quel punto. Tu chiudi i pollici, scendi, giri la mano e tu dici il corpo. Vai, fai quello che ti ricordi. Sono qua. Sì, se lo ha, non ho paura che se lo ha. Ma questo è un sfregamento della mancura. Perchè non vuoi riparire. Donata, allora che trucco gli fa la signora? Trucco giorno? Che trucco? Che trucco gli fa? Ma un trucco da giorno. Beh, quello sicuramente. Che colori vuoi usare per la sua pelle? È molto chiara, quindi i colori sono abbastanza chiari. Sicuramente i colori sono sembranti... Ovviamente. Tenere la naturalezza, diciamo. Perché poi è una bella pelle. Beh, la bella. Grazie. 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 Grazie.